Appunti di un viaggiatore Le sette, un fischio, partenza! Il treno passa sugli scambi con un rumore simile a quello dei temporali in teatro e sbuffandosi in fila nella notte. Emette vapore, manda bagliori infuocati sui muri, sulle siepi, sui boschi, sui campi. Siamo in sei, alla luce delle lampade, tre per sedile. Davanti a me una donnona e un omone, coppia di vecchi coniugi. Un gobbetto occupa il posto d'angolo a sinistra. Vicino a me una coppia giovane di sposi. Ma saranno sposati davvero? La ragazza è graziosa, ha l'apparenza di una donna per bene, però è un po' troppo profumata. Che profumo sarà? Lo conosco, ma non mi viene il nome. Ah, ecco, pelle di spagna. Però questo non significa niente. Aspettiamo a giudicare. La donnona esamina questa giovane con un'ostilità che mi fa pensare. L'omone so chiude gli occhi. Di già. Il gobbo si è appallottolato su se stesso. C'è solo lo sguardo che brilla sotto una papalina dalla nappa rossa. Poi si sprofonda sotto un plaid. Pare un pacco dimenticato sul sedile. Rimane sveglia solamente la donnona, sospettosa, inquieta, come qualcuno incaricato di sorvegliare sull'ordine e la moralità dello scompartimento. La coppia giovane non si muove. Gambe avvolte nello stesso cialde. Restano con gli occhi aperti, ma non parlano. Saranno sposati. Anch'io faccio finta di dormire. Espio. Le nove. La donnona non ce la fa più. Ogni tanto chiude gli occhi. Reclina la testa sul petto e la risolleva con uno scatto. È andata. Adesso dorme. Oh sonno, ridicolo mistero, che dai ai volti le apparenze più grottesche. Come sai rivelare la bruttezza degli uomini. Fai risaltare ogni difetto, ogni deformità, ogni tara. Appena una faccia viene toccata da te, diventa subito una caricatura. Mi alzo e faccio scendere sulla lampada il lieveschermo azzurrino. Poi mi assopisco anch'io. Mi svegliano ogni tanto le fermate del treno. Un ferroviare urla il nome di una località e si riparte. Ecco l'aurora. Stiamo seguendo il corso del rodano che scende verso il Mediterraneo. Tutti dormono. I due giovani si sono abbrazzati. Un piedino di lei spuca da sotto lo scialle. Indossa calze bianche. Allora è una coppia normale. Sono sposati. Nello scompartimento c'è un cattivo odore. Apro un finestrino per cambiare l'aria. Il freddino li sveglia tutti, tranne il gobbo, che ronza come una trottola sotto la coperta. La bruttezza dei visi accentuata dalla luce incerta del nuovo giorno. La donlona rossa, spettinata, mostruosa, butta un'occhiata cattiva e circolare sui suoi vicini. La donna giovane guarda sorridendo il compagno. Se non fosse sposata, avrebbe guardato per prima cosa lo specchietto. Lama Marsiglia. Una fermata di venti minuti. Vado a far colazione. Si riparte. C'è il gobbo di meno e due signori anziani in più. Le due coppie, la vecchia e la giovane, cominciano a scartare le provviste. Qui pollo, lì vitello freddo. Fagottini di carta bianca col sale e col pepe. C'è triolini in un fazzoletto. Quanto basta togliere per l'eternità la voglia di mangiare. Non conosco niente di più volgar, grossolano, sconveniente che mangiare in uno scompartimento dove sono altri viaggiatori. Se fa freddo, aprite i finestrini. Se fa caldo, chiudeteli e mettetevi a fumare la pipa, anche se non vi piace l'odore del tabacco. Mettetevi a cantare, ad abbaiare. Abbandonatevi alle eccentricità più mostruose. Levatevi le scarpe e le calze. Tagliatevi le unghie dei piedi. Insomma, cercate di rendere ai vostri vicini maleducati la pariglia del loro pessimo galateo. L'uomo previdente dovrebbe portare con sé una fiala di benzina o di petrolio da spargere sui cuscini dello scompartimento appena uno dei viaggiatori comincia a mangiare. Tutto deve essere permesso, tutto e troppo poco per punire questi villanzoni che vi appestano col tanfo delle loro pippate. Posteggiamo il mare azzurro. Il sole inonda la costa, piena di belle città. Ecco, San Rafael. Più oltre c'è il Saint-Tropez, la minuscola capitale della regione deserta, sconosciuta e incantevole che chiamano Montagnie des Murets. Un gran fiume che non è attraversato da ponti, l'Argent separa dalla terraferma questa penisola selvaggia, dove si cammina una giornata intera alle volte, senza incontrare nessuno, dove i paesetti appollaiati sui monti sono rimasti come sono sempre stati, con le case all'orientale, gli archi e le porte centinate, basse e scolpite. Né il treno né altri trasporti pubblici entrano in queste valli bellissime e boscose. Soltanto un vecchio battello porta le lettere da Ierea Saint-Tropez. Il treno fila veloce. Ecco Cannes, meravigliosa tra i due golfi, di fronte alle isole di Leran, che se si potessero congiungere con la terra sarebbero due paradisi per gli ammalati. Ecco Golf Jeanne, la squadra navale pare addormentata sull'acqua. Ecco Nizza. In città c'è una mostra. Andiamo a vederla. Si percorre un viale pantanoso e si arriva in cima a una collinetta su cui sorge una costruzione di cattivo gusto, che somiglia in piccolo al gran palazzo del Trocadero. Dentro ci sono alcune persone che passeggiano in mezzo a una gran confusione di casse. L'esposizione, già aperta da tempo, sarà pronta sicuramente il prossimo anno. Le sale interne sarebbero belle se fossero finite. Ma ce ne vuole. Io sono attratto particolarmente da due settori, quello dei generi commestibili e quello delle belle arti. Ahimè, frutta candita di grassa, confetti, mille strade, squisitezze. Ma la vendita è proibita. Si può solamente guardare. E tutto ciò per non dannezzare i commercianti del posto. Mettere in vetrina dei dolci solo per la gioia degli occhi e vietarne la vendita è davvero una delle più strane invenzioni della mente umana. Ebbè, le arti sono in allestimento. C'è tuttavia qualche sala aperta dove si possono vedere bellissimi paesaggi di Arpigné, di Guillemin, di Lepotven, un magnifico ritratto della signolina Lys-Réignol de Courtois, un delizioso vero, eccetera. Il resto, dopo che sarà tolto dalle casse. Poiché, quando si fa il turista, è bene visitare tutto, voglio offrirmi un'ascensione e vado verso il pallone aerostatico del signor Godard e compagni. Soffia il maestrale e l'aerostato dondola paurosamente. Poi si sente uno sparo. Le corde della rete si rompono. Il pubblico non è ammesso al recinto e fanno uscire anche me. Salgo sulla mia carrozza e osservo. Le corde schioccano a intervalli con rumore sospetto e la pelle scura del pallone cerca con sforzo di uscire dalle maglie che la trattengono. All'improvviso, una raffica di vento più violenta fa spaccare dall'alto in basso il pallone volante che si affloscia come una tela molle, sgonfia, morta. Il giorno dopo, appena sveglio, mi faccio portare i giornali della città e vi leggo La tempesta che è imperversa sul nostro litorale ha costretto l'amministrazione dei palloni frenati e liberi di Nizza a sgonfiare il suo grande aerostato allo scopo di evitare incidenti. Il sistema di sgonfiatura istantanea praticato dal signor Godard è una delle invenzioni che più gli fanno onore. Povero pubblico! Tutta la costa del Mediterraneo è il paradiso dei farmacisti. Uno deve essere ultramiliardario per avere il coraggio di comprare anche una semplice scatoletta di pomata per la tosse da uno di questi orgogliosi bottegai che vendono le giugiole al prezzo dei diamanti. Si può andare da Nizza a Monaco sulla Corniche seguendo il mare. Non c'è niente di più bello di questa strada tagliata nella roccia che contorna le baie si infila sotto le volte corre e penetra nel fianco delle montagne in un paesaggio meraviglioso. Ecco Monaco sulla sua roccia e dietro Monte Carlo. Si capisce come mai coloro che amano il gioco d'azzardo impazziscono per questa bella città. Come è triste come è tetra per quelli che non giocano. Non vi sono altre possibilità di piaceri o di distrazioni. Poco oltre Cementone la località più calda della costa è la più frequentata dagli ammalati. Là gli aranci maturano e i tisici guariscono. Prendo il treno della notte per far ritorno a Cannes. Nel mio scompartimento due signore e un marsigliese che racconta con ostinazione tragedie di scontri ferroviari di assassini e di furti. Ho conosciuto un corso care signore che stava andando a Parigi insieme al figlio. Parlo di tanto tempo fa ai primi tempi della linea PLM. Salgo in treno con loro dato che eravamo amici e ci mettiamo a parlare. Il figlio che aveva vent'anni non si stancava di ammirare la corsa del treno e per tutto il tempo stava affacciato al finestrino. Suo padre gli diceva in continuazione Sta attento Mattias non stare troppo affacciato ti può far male ma quello non gli rispondeva nemmeno. Io dicevo al padre lasciatelo fare si sta divertendo ma il padre continuava a ripetere Via non sporgerti in quel modo. poi visto che il figlio seguitava a non rispondere lo prese per la giacca con l'intenzione di farlo tornare dentro e tirò il corpo gli cadde sulle ginocchia non aveva più la testa signora gli era stata troncata in una galleria e il collo nemmeno sanguinava era tutto colato per la strada una delle signore mise un sospiro chiuse gli occhi e cadde addosso alla sua vicina era svenuta e cadde